ah qui da solo questo trio dicevo di neoformazione un trio che personalmente credo avrà molta fortuna perché sono tre musicisti validissimi e la formazione incarna quello che è lo spirito di un incontro di culture che vede al centro l'area arabo persiana partendo dal Mediterraneo fino all'India quindi buon ascolto a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti il progetto sull'India, Iran e l'Italia che sono tre culture proprio millenari quando si fanno dei concerti del genere in cui diciamo tre culture si incontrano sono progetti che comunque destano molta curiosità e quindi insomma ci aspettiamo di avere un buon riscontro di fare un buon rischio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.